È stato il nostro obiettivo di iniziare col piede giusto. Conosciamo il Molteno, è una squadra forte, ci siamo incontrati diverse volte in campionato, però siamo molto contenti di come è andata questa prima partita. Adesso abbiamo già la testa a Trieste che ci aspetta domani e speriamo di continuare così. Sicuramente sono inizio di fuoco contro l'Eppa che è una delle favorite a salire oggi. Adesso ci prepariamo testa alla prossima partita con Lanzara e con Trieste e sicuramente possiamo giocarsela di più. Risentiamo, partiamo dal zero e domani si vedrà.